Stiamo andando a Quaglie per allenare un po' il cane e sicuramente qualcuno ci si sarà oggi è primo avrino quindi tutto live e niente ecco oggi stiamo con Elettra e con Calliope dobbiamo fare delle accorgimenti per Elettra che ultimamente sta un po' marcando male e niente andiamo a vedete com'è l'erba qua è orso quindi sotto è tutta pulita Grazie a tutti Ferma, ferma, brava Elettra, brava Elettra, brava Elettra, ferma, ferma lì, ferma lì, piano, vai, ferma, che brava che stai Calli, ferma, 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 Elettra, ferma, 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 eccola via Belle Buongiorno ragazzi siamo tornati finalmente sul canale era un po' che non uscivo e niente oggi domani da Quaglie e abbiamo trovati due e niente tutto a posto sto cercando di affinare un po' il consenso di Elettra che ultimamente l'ha un po' perso però ci stiamo divertendo